E' morto all'età di 92 anni padre Filippo Cespuglio, frate Agostiniano, che si trovava in cura nella residenza sanitaria Casa Argento a Fossombrone. La diocesi oggi ha ricordato la storia di padre Filippo che fu battezzato in fretta da don Alfredo Campolucci perché in pericolo di morte. Aver superato questo grave momento fu da lui attribuito alla Madonna delle Grazie venerata Saltara, di famiglia numerosa, decise di entrare nel convento degli agostiniani a cartoceto in qualità di fratello converso. Poi nel 1970 colse l'invito a recarsi missionario in Peru dove restò per dieci anni frequentando il seminario di Cusco e ricevendo l'ordinazione presbiterale il 26 aprile 1978. Rientrato in Italia per motivi di salute svolse il suo ministero nella comunità di Tolentino, Pesaro e Fano. Molto amato per la sua umanità e il suo carattere mite e buono, padre Filippo ha sempre aiutato tutti con generosità. L'eseque presedute dal Vescovo Armando Trasarti saranno celebrate venerdì alle ore 10 nella parrocchia di San Giuseppe al Porto. Anche domani invece rimarrà allestita la camera ardente nel convento agostiniano attivo alla chiesa. La salma verrà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Saltara.